Per cortesia, manteniamo la calma, lavoriamo per tutti, non vi preoccupate. Allora, quando vi hanno detto a voi della maggioranza che per avere i soldi ci vogliono i progetti, io vi dico, lo dico a voce alta perché dovete capire certe cose, il progetto ce l'abbiamo, è il progetto socio che va rivisto, va rimodulato, va rifatto sulla base del nuovo recapito, ma il progetto c'è, il comune di Marano può prendere i soldi, andare alla socesi e dirgli ripetimi il progetto, rifammi il progetto, portami i liquami di Torri Caraccio a quarto. Bene, quindi i soldi ci sono, il progetto c'è, ci serve solo la volontà dell'amministrazione di risolvere questo problema. Abbiamo avuto problemi nel passato, ve ne siete sempre usciti per la comune, questa volta ci sono i soldi, c'è il progetto, c'è la possibilità di risolvere il problema. Se perdiamo anche questo treno, o meglio, se perdete anche questo treno, vi portate una responsabilità in mane, perché la collina sta frenando, non perché lo dico io, ma perché sta frenando, e vi portate questa responsabilità addosso per andare poi magari a fare 14 cacatelle tutto intorno per la città per contentare i vostri consiglieri comunali. Bene, questo problema ve lo pongo con forza, ci sono i soldi, c'è il progetto, dovete soltanto adesso avere la volontà politica di andare a risolvere il problema di Dore Caracciolo.